In Liguria non siamo messi così male dal punto di vista delle discariche abusive, anzi non abbiamo dei casi di particolare gravità e invece abbiamo questa possibilità di collaborare con la struttura commissariale nazionale che è molto importante per noi anche perché ha riconosciuto la qualità tecnica dei nostri uffici che sono in grado, grazie all'esperienza che hanno maturato anche su Scarpino che per lungo tempo è stata una spina nel fianco, se vogliamo, di tutti noi genovesi, di tutti noi Liguri ma come tutte le cose si è trasformata invece anche in una grande fonte di competenza acquisita da parte dei nostri tecnici talmente alta che oggi veniamo chiamati dalla struttura nazionale per aiutare e dare una mano nell'ambito delle collaborazioni tra enti pubblici diciamo nei casi più difficili anche che ci sono a livello nazionale, quindi da Malagrotta potenzialmente a scendere a situazioni varie Peraltro questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa anche il generale Vadalà che è appunto il commissario per le discariche un generale dei carabinieri, commissario per le bonifiche appunto di queste discariche, commissario di livello nazionale l'ho incontrato personalmente davanti a Palazzo Tursi, gli ho fatto alcune domande proprio su questa collaborazione con Amiubonifiche sentite questa breve intervista Ma questo è il valore aggiunto che in questa missione dell'arma dei carabinieri ricordami in sera del 2017, 81 di scariche busili da portare a compimento, quindi da bonificare e mettere in sicurezza abbiamo incontrato e abbiamo stretto rapporti, abbiamo messo su un protocollo oggi è stata una riunione di verifica, una conferenza stampa per dare atto di questa collaborazione nella sua interessa di Stato, quindi fra enti territoriali e Stato centrale per portare dei risultati che sono risultati per il Paese, in questo caso le scariche abusive ma anche per il sito di Managrotta, contemporaneamente devo dire che anche la professionalità di Amiubonifiche sia per la parte di stazione appaltante che per la parte di lavori da eseguire si può arricchire vicendevolmente di questo lavoro ricordo sempre che poi c'è una grande questione nazionale che è quella di fare le opere le opere si fanno quando c'è competenza e devo dire che l'Amiubonifiche, l'abbiamo già verificato in Varisiria una grandissima compensa sia nell'esecuzione che nel dirigere gli appalti Da alto ufficiale dell'arma dei Carabinieri, come si fa a cercare di evitarla la creazione di queste discariche abusive, di questi luoghi pericolosi? Certo non è facile, però bisogna fare di tutto ovviamente per evitare che questi luoghi si creino e si realizzino Siamo in una fase generale di post-industrializzazione non solo dell'Italia ma dell'Europa per cui è ovvio che ci sono retaggi del passato che devono essere messi a posto dove si può c'è anche l'altra grande questione che è quella della gestione dei rifiuti pericolosi speciali o dei rifiuti urbani e per questo siamo in una fase di transizione stiamo passando dal sistema delle discariche al sistema degli impianti ci vogliono gli impianti per la gestione ci vogliono le buone pratiche cercando di riciclare cercando di produrre meno rifiuti contemporaneamente però si deve passare quindi a questo sistema virtuoso in questo devo dire il paese è impegnato ci vorranno ancora degli anni però discariche abusive come quelle che abbiamo trovato noi oggi non ce ne sono più qualunque sindaco prima di iniziare a sbaltire dei rifiuti oggi cerca il sito quindi voglio dire il sistema va in avanti è in cammino ci vuole ancora del tempo ma sicuramente si è in una strada positiva non ci sono discariche da bonificare in Liguria qual è la situazione della nostra regione rispetto al livello nazionale anche sul rispetto di queste norme ambientali? ma comunque insomma la situazione la Liguria per quello che mi costa è una situazione che è come quella che dicevo che si possono ancora di più migliorare sia la parte di raccolta differenziata perché quello che dobbiamo fare è di portare meno rifiuti o in discarica o negli altri sistemi ricordo che l'Unione Europea entro il 2030 ci obbliga a tutti i paesi europei di non portare più del 10% di differenziati in discarica per cui devo dire un po' in Italia siamo a macchia di leopardo sicuramente come detto prima stiamo a poco a poco ci vorranno degli anni però andando verso un sistema migliore ecco questa intervista sicuramente ci fa capire come la buona notizia sia appunto quella di non avere discariche abusive nella nostra regione però il tema in realtà di chi ancora scarica i rifiuti purtroppo per strada soprattutto gli ingombranti è ancora attuale quello lo dobbiamo dire non è dovuto a chi si occupa di amministrare i rifiuti dei cittadini ma dai cittadini stessi e dalla loro inciviltà come fare ancora ulteriormente nel 2023 a cercare di evitare queste situazioni? l'altra volta parlavamo proprio al programma politico di Primo Canale con l'assessore Matteo Campora che ci ha raccontato basta anche solo un whatsapp per segnalare un incivile al Comune di Genova e multarlo però non è così semplice combattere questo fenomeno no beh non è semplice indubbiamente parte da ciascuno di noi come singolo cittadino ovviamente di avere dei comportamenti virtuosi quindi ovviamente rispettare le norme non abbandonare degli ingombranti per strada o segnalare chi eventualmente si comporta in modi assolutamente lesivi dell'interesse pubblico e ricordiamo anche una cosa noi dal punto di vista dell'organizzazione cerchiamo di dare al cittadino la maggior possibilità di evitare questo tipo di problematiche ad esempio con il recupero degli ingombranti direttamente a domicilio o meglio al portone diciamo gratuitamente fino a 5 pezzi verrà implementato prima era 3 pezzi adesso arriverà a 5 pezzi la possibilità invece come servizio a pagamento di avere il ritiro degli ingombranti direttamente in appartamento oppure poterli portare all'isole ecologiche oppure agli stessi camioncini che ci sono nelle piazze dove si possono appunto portare gli ingombranti quindi diciamo il ventaglio di servizi per cercare di aiutare il cittadino adempiere correttamente viene fornito poi ripeto ciascuno di noi nel proprio piccolo deve cercare però di sfruttare questi sistemi e di non appiattirsi in comportamenti che sono del tutto incivili e oggi portano anche a delle sanzioni comunque elevate quindi ricordiamoci che anche questo l'amministrazione comunale giustamente cerca di disincentivare da una parte chiedendo a noi di fornire un servizio ma dall'altra parte con sanzioni anche pesanti Faccio outing, sono bravo in tutto tranne che con l'umido e credo di non essere l'unico diciamo perché anzi i livelli di umido sono più bassi rispetto a quelli del resto della nettezza urbana e per aiutare quelli come me a capire che bisogna comportarsi in modo virtuoso e di non dimenticarsi anche questa parte della differenziata avete lanciato un'iniziativa andate in giro per i quartieri con un pulmino che spiega come in realtà più in generale come si può fare al meglio la differenziata ma in particolare appunto la raccolta dell'umido che è tanto utile lo vediamo adesso parliamo di energia di quello che si può fare con il compost con i vari carburanti che possono prendere vita anche dai nostri scarti alimentari quella è probabilmente la parte che ancora forse perché è un po' più difficile è anche più brutto tenerlo in casa magari per più di qualche ora e quindi insomma però è una parte che dobbiamo tutti imparare a fare al meglio beh l'umido è una delle frazioni più importanti a un certo punto di vista perché come diceva giustamente il direttore comporta anche delle problematiche in casa quando lo tengo puzza, crea problemi crea liquame in casa quindi voglio dire è un qualche cosa di cui vogliamo liberarci rapidamente però come tutte le frazioni è anche estremamente utile ci permette di avere dei recuperi in termini energetici in termini di creazione di compost e quindi la possibilità di raccoglierlo correttamente è indubbiamente un qualche cosa di necessario e da spingere oggi quello che stiamo cercando di fare per sensibilizzare è una campagna focalizzata sull'umido sia in televisione ma anche nelle piazze dove andiamo con i nostri camioncini consegniamo dei mastelli appositi quei mastellini marroni che si possono mettere in casa con i sacchetti compostabili diciamo che sono adatti per ricevere questo tipo di frazione e invitando i cittadini spiegando anche ovviamente come fare ma invitando a raccogliere l'umido e poi portandolo nelle campane apposite che vengono posizionate ora poi per quanto riguarda ovviamente le campagne old style chiamiamole così quelle vecchie che abbiamo a disposizione in città non da tutte le parti l'umido era perfettamente presente qualche volta si trovano dei cassonetti più piccoli invece laddove stiamo inserendo il nuovo sistema di raccolta col cosiddetto bilaterale troverete sempre delle batterie complete complete anche con il cassonetto dell'umido comunque tendenzialmente la copertura anche dei cassonetti anche di quelli vecchi è presente su tutta la città l'invito sempre anche qui come dicevamo prima è il comportamento quotidiano di ciascuno di noi quindi veramente sforzarsi capisco che all'inizio è un'operazione che magari non viene naturale detta tra di noi fa anche un po' ridere dire all'inizio perché parliamo del decreto Ronchi che è del 97 quindi voglio dire è un inizio di quei 30 anni però si sa che in Italia non c'è niente di più all'inizio di qualche cosa che esista da meno di 50 anni quindi voglio dire siamo ancora dei novellini da questo punto di vista però è importantissimo veramente cercare di sforzarsi perché l'obiettivo da raggiungere è un obiettivo importante per tutte le città dobbiamo raggiungere almeno il 65% della differenziata ma come avete sentito prima anche dal generale Vadalà gli obiettivi finali al 2030 sono assai più importanti e pregnanti da parte della comunità europea e ripeto non si può fare senza l'aiuto di ciascuno di noi quindi dobbiamo puntare a quello dobbiamo puntare alla riduzione dei rifiuti perché è una necessità di ben vivere cioè di qualità dell'ambiente nel quale viviamo perché dobbiamo fare a meno il più possibile se vogliamo nel futuro delle discariche e tutto sommato limitare anche gli impianti di fine vita che ci possono essere poi chiamiamoli come vogliamo termovalorizzatori, waste to chemical o altre tipologie di impianti possibili però tutto questo non può che passare attraverso una corretta differenziazione o riuso dei materiali che abbiamo in casa voi ce l'avete l'impianto di Scarpino siamo venuti a vedere anche i lavori che avete portato avanti vi devo usare bene i nomi perché poi sono subito polemiche su come si chiamano però insomma quello di Scarpino è un impianto di biogas che produce energia attraverso il percolato il percolato come dire non so esattamente cosa sia però ricordo che era quella parte noiosa che dava fastidio perché poi rimane sotto, scende giù e invece voi lo riutilizzate per produrre energia ora chiaro che attendere questo potrebbe essere un modo davvero utile per cercare ora l'indipendenza energetica non arriverà dal biogas però tutto fa ma allora è chiaro che dalle discariche che esistono necessariamente intanto vale trarre come dire tutte le utilità che possono essere tratte una di questa è ovviamente la produzione di biogas che si forma in sacche all'interno diciamo degli strati di rifiuti che vengono abbancati che sono stati abbancati nel corso degli anni quindi diciamo non solo dalla presenza del percolato ma anche dalla presenza proprio media dei rifiuti si può trarre questo gas che poi viene utilizzato per creare energia energia che può essere utilizzata o come energia termica ovviamente per i cittadini che abitano nelle vicinanze oppure può essere convertito in energia elettrica e quindi andare a alimentare gli impianti stessi o comunque la rete elettrica il percolato è un qualche cosa di estremamente negativo che bisogna cercare di limitare ma che è inevitabile da un certo punto di vista perché sono i liquami che si generano dalla decomposizione dei rifiuti degli strati bassi diciamo così della discarica e quindi ovviamente questo è un liquido particolarmente inquinante che deve essere trattato infatti abbiamo un impianto ad hoc che si chiama SIMAM all'interno dell'area di scarpino che va a recuperare questi liquidi e li va a trattare in modo tale che possano essere poi introdotti diciamo nelle acque nere comunque delle fognature normali per essere poi smaltiti ma avendo tolto tutte quelle componenti di rischio ambientale e chimiche contenute all'interno che si vanno a generare direi di chiudere a questo punto con l'auspicio per il 2023 l'obiettivo che AMIU vuole realizzare entro il prossimo anno 100% di differenziata lo dico io esatto 100% sarebbe l'ideale e io mi accontenterei molto prosaicamente di avere un risultato molto prossimo al 65% che sarebbe già un grandissimo risultato perché delle metropoli italiane diciamo siamo tutti chi più chi meno comunque ancora lontani dal 65% totale di raggiungimento e questo sarebbe un bellissimo risultato ma soprattutto sarebbe un bellissimo risultato per l'ambiente per la qualità di vita di tutti noi speriamo che sia questo l'obiettivo che anche i cittadini si prefisseranno per rispettare di più l'ambiente nel 2023 di fare il più possibile la differenziata ricordiamolo non è una roba che fa AMIU nel senso che la differenziata la facciamo noi se non gliela portiamo loro non possono raccoglierla se invece noi gliela portiamo loro possono utilizzarla al meglio e magari attendere anche come dire è molto probabile che se avessimo una differenziata al 100% potremmo tranquillamente bussare alla porta del sindaco e dirgli sindaco adesso la tarifa la abbassi perché stiamo utilizzando al meglio tutte le nostre risorse se invece ancora dobbiamo portare i nostri rifiuti in giro dobbiamo smaltirli in modo all'antica diciamo così poi costa indubbiamente più alta la percentuale differenziata minore è il costo di smaltimento dei rifiuti che abbiamo e quindi più è possibile diciamo così andare a incidere positivamente in una riduzione di tariffa grazie a tutti grazie a tutti